Ciò che fa bene alla comunicazione è in primo luogo la parressia, cioè il coraggio di parlare in faccia, di parlare con franchezza e libertà. Se siamo veramente convinti di ciò che abbiamo da dire, le parole vengono. Se invece siamo preoccupati di aspetti tattici, ma il tatticismo, il nostro parlare sarà artefatto, poco comunicativo, insipito, ma un parlare di laboratorio e questo non comunica niente. È questo per Papa Francesco il primo compito del comunicatore, risvegliare le parole. Lo ha ricordato ai dirigenti, dipendenti e operatori di TV2000, la televisione della conferenza episcopale italiana incontrati in Aula Polo VI. Il secondo è aprire il cammino della comprensione, non chiudere, correndo subito alla soluzione, senza concedersi la fatica di rappresentare la complessità della vita reale. Il terzo compito è parlare alla persona tutta intera, perché sappia vedere oltre l'immediato. E Papa Francesco ha chiesto anche di evitare i peccati dei media, dalla disinformazione, che spinge a dire metà delle cose, alla preoccupazione di colpire, alternando allarmismo catastrofico e disimpegno consolatorio. Grazie a tutti.